L'anticiclone africano Cerbero cede il posto al sub tropicale Caronte e la Sicilia è destinata a giornate di caldo infernale. Bollino, Rosso, Catania e Messina per i rischi ondate di calore già a partire da oggi, sabato 15 e domani domenica 16 luglio. Domani sulla fascia tirrenica si toccheranno i 36 gradi, mentre temperature record sono previste a Trapani e Caltanissetta, dove il termometro potrebbe arrivare a 41 gradi e a Ragusa con 39, ma a preoccupare sono le previsioni per la prossima settimana. Stando alle cartine degli esperti di Trebbi Meteo, si ipotizza che le colonnine di Mercurio potranno schizzare oltre i 40 gradi anche nel Messinese e fino a 44-45 nelle aree interne a sud dell'isola. Una situazione da non sottovalutare, con possibili effetti negativi sulla salute anche di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche. Necessario ricorso a buone pratiche per contrastare gli effetti del clima rovente, come evitare di esporsi a caldo e sole diretto tra le 11 e le 18, le zone particolarmente trafficate, e indossare indumenti chiari e leggeri in fibre naturali come cotone e lino, riparare la testa con un cappello leggero e usare occhiali da sole, oltre a proteggere la pelle e con creme solari ad alto fattore protettivo. In casa usare correttamente condizionatori e ventilatori, assicurando un adeguato ricambio d'aria. Meglio tenere tapparelle e finestre chiuse di giorno e aprire invece la sera, evitando l'uso di fuochi per cotture lunghe, forno elettrico ed elettrodomestici che generano calore. Imperativo bere molto, moderando l'assunzione di bevande gassate e zuccherate, tè e caffè ed evitare quelle troppo fredde e alcoliche per scongiurare il rischio di congestione. Seguire un'alimentazione leggera, no a cibi elaborati e piccanti e preferire verdure e frutta fresche. Attenzione anche alla corretta conservazione di farmaci e alimenti deperibili. Le temperature elevate infatti favoriscono la proliferazione di germi patogeni, causa di disturbi gastroenterici. Consigli anche per chi deve viaggiare, evitando l'uso dell'auto nelle ore più calde se non è climatizzata, e ricordarsi sempre di portare con sé sufficienti scorte d'acqua in caso di code o file impreviste. Attenzione ai sintomi da colpo di calore, mal di testa, nausea, vomito e sensazione di vertigini, possibili stati d'ansia e confusionali. La temperatura corporea aumenta rapidamente fino anche a 40-41 gradi e si può perdere coscienza. In questi casi è opportuno chiamare immediatamente un medico. Grazie a tutti.